non ce ne rendiamo conto. E allora cerchiamo di capire un attimino. Allora, intanto questo è sicuramente un argomento affascinante e potente perché fisica quantistica e legge attrazione messa assieme generano un mix veramente interessante e poi dobbiamo quindi scoprire come combinare queste due forze, se vogliamo, per attrarre, per attirare abbondanza nella nostra vita. La fisica quantistica è sicuramente una delle teorie più straordinarie e anche rivoluzionari del nostro tempo perché pensate, va bene, ma diciamo, salutiamo anche Piera, salutiamo anche Roxy e Betty, Kotic, probabilmente nessuno di voi o pochi di voi hanno compreso veramente quale sia il concetto, diciamo, rivoluzionario della fisica quantistica perché viviamo in un mondo che comunque sia è un mondo dominato, diciamo, ancora dalla fisica newtoniana, no? Cioè un mondo in cui, ad esempio, crediamo che il tempo sia un qualcosa di cronologico, uguale per tutti, no? Il mio tempo, il tuo tempo, il suo tempo. Invece il tempo, ad esempio, che questo non è neanche un retaggio della quantistica, ma addirittura anche della relatività generale di Newton, anzi della relatività ristretta di Newton, il tempo è veramente un qualcosa di estremamente soggettivo, che è estremamente collegato, ad esempio, allo spazio e alla deformazione dello spazio-tempo. Quindi pensare che il mio presente possa corrispondere al passato o al futuro di un altro essere, ad esempio, sembra pazzesco. Eppure questo ce lo dice fondamentalmente la relatività ristretta di Newton. Il mio presente potrebbe corrispondere al passato di qualcuno e al futuro di qualcun altro. Ora, non mi dilungo qua nello spiegare la cosa, anche perché poi non avreste neanche gli strumenti matematici per comprenderlo, però questo è un dato di fatto fondamentalmente. Solo che noi non ce ne rendiamo conto perché siamo, come dire, pilotati dai nostri sensi, no? I nostri sensi ci fanno percepire una piccola fetta del mondo, una piccola porzione del mondo che non è, come dire, però coincidente con la realtà. La fisica quantistica si occupa dello studio delle particelle subatomiche, delle leggi che governano il mondo invisibile che ci circonda. Perché, diciamo così, che le particelle subatomiche sono invisibili, ma anche i virus sono invisibili. Eppure nessuno oserebbe negare che questi cazzo di virus, quando ti beccano, te lo ficcano in quel posto. C'è qualcuno che può anche schiattare per un virus, per un batterio, anche se non si vedono, no? Ma anche le radiazioni sono invisibili. Eppure, come possiamo dire, se ti prendi, ad esempio, dei raggi gamma, ti generano, pensate, alle radiazioni delle bombe termonucleari. Quindi la fisica quantistica si occupa dello studio delle particelle subatomiche e del mondo invisibile. Ma questo ha un impatto molto forte anche sul mondo che noi percepiamo, no? E questo rende ancora più incredibile questa scienza e il suo legame con la legge dell'attrazione. La legge dell'attrazione è un principio metafisico, cioè non è studiato da una legge fisica, va oltre. Meta nel senso di andare oltre. Secondo la quale, secondo la legge dell'attrazione, i pensieri, le emozioni, le vibrazioni che inviamo all'universo, si riflettono sulla realtà che ci circonda. In altre parole, attiriamo ciò su cui focalizziamo la nostra attenzione, potremmo dire. Infatti, una delle caratteristiche chiave del buddismo è, ad esempio, la concentrazione. Cioè, una delle cose che noi dovremmo imparare nel buddismo è la concentrazione. Cioè, per dire, no? Che già Buddha, 2500 anni fa, ci diceva che la concentrazione ha un suo valore, ha una sua valenza, è qualcosa di fondamentale, qualcosa di importante. Senza capacità di concentrazione non otteniamo nessun risultato. E, diciamo, la legge dell'attrazione tende a confermare, a confermare questo. E quindi, cosa accade quando combiniamo fisica il quantistica con la legge dell'attrazione? Beh, diciamo che il risultato è comunque stupefacente. Scoprirete che la realtà è più flessibile di quanto abbiate mai immaginato, no? E che voi stessi potete diventare, o potreste diventare, i veri creatori della vostra vita. D'altra parte, il film Matrix è un film molto interessante che vi suggerisco di andare a rivedere, perché, diciamo, ci fa capire molte cose. Ovviamente la fisica quantistica ci insegna, diciamo, le nozioni base sulla struttura dell'universo a livello subatomico e come tutto si è collegato fondamentalmente. Mentre la legge dell'attrazione ci insegna che i pensieri e le emozioni influenzano le nostre vibrazioni. Cioè, noi anche come esseri umani abbiamo una frequenza vibratoria e queste vibrazioni ci fanno attirare una esperienza di vita, ci fanno attirare una situazione in particolare. Quindi, questo è un punto fondamentale. E ovviamente l'intreccio quantistico e della legge dell'attrazione ci permette di capire che l'atto di osservare e concentrarci su un risultato desiderato può influenzare l'universo, l'universo quantistico, per creare la realtà che noi desideriamo. Ci sono degli esercizi, anche pratici, ma che poi sono collegati alla meditazione. Allora, cerchiamo di capire qualcosa di più e teniamo presente che possiamo tranquillamente cambiare vita. Allora, cerchiamo di capire un attimino quali sono i fondamenti della fisica quantistica. Quindi, la fisica quantistica si occupa delle particelle subatomiche, delle leggi che governano il mondo a livello subatomico, piccolino. Uno dei concetti fondamentali della fisica quantistica è quello proprio dell'entanglement quantistico, che significa che particelle che sono entrate in contatti in qualche modo possono essere interconnesse in modo misterioso, istantaneo, indipendentemente dalla distanza che le separa. Questo principio ci fa capire che tutto è collegato, diciamo, a livello quantistico. Qui sono stati fatti tantissimi esperimenti e questo è un punto molto importante. Intanto ringrazio la Faga. Questo è un punto molto importante. Immaginiamo, ad esempio, di avere due particelle, una rossa e una blu, che vengono generate in laboratorio oppure che vengono generate attraverso un atomo, cioè nel senso che condividono un'orbita di un atomo e poi vengono separate a una grande distanza l'una dall'altra. Quello che si osserva è che quando cambia lo stato o quando si misura lo stato di una particella, l'altra particella assume contemporaneamente uno stato correlato, cioè se ad esempio una particella ha spin più uno, l'altra automaticamente ha spin meno uno. Questo fenomeno sconcertante, diciamo, dimostra che le due particelle sono interconnesse e agiscono come se fossero una sola, anche se sono separate dallo spazio. Quindi a questo punto di vista sembrerebbe anche che lo spazio sia illusorio, no? Si chiama principio della non località quantistica e vuol dire che anche noi, i nostri pensieri sono non locali. Cioè io credo che veramente i nostri pensieri non siano locali. Quello che noi pensiamo può in qualche modo istantaneamente influire sulla persona con le cui siamo intanglement. Io credo che il principio o i principi, diciamo, della telepsichia o della telepatia o del contatto, dell'interconnessione tra le persone, che poi è anche un po' il principio dell'amore, se vogliamo. Quando siamo innamorati di una persona ci percepiamo in intanglement con questa persona e si crea una complicità molto forte. I nostri pensieri diventano quasi, vibrano, no? Sulle stesse frequenze, sulle stesse lunghezze d'onde, come se fosse quasi un unico pensiero, no? E la legge dell'attrazione ci suggerisce che ciò su cui concentriamo la nostra attenzione e i nostri pensieri, quindi, diventano influenza ciò che attiriamo nella nostra vita, ciò che attiriamo nelle nostre esperienze. Quindi se abbiamo dei pensieri focalizzati su ciò che desideriamo e non sui nostri problemi, attireremo cose positive nella nostra vita. Se invece ci lamentiamo, siamo sempre focalizzati sui nostri problemi, parliamo dei nostri problemi, attireremo problemi. Ma questo vale se parliamo di cose noiose, attireremo persone noiose. Provo un po' a iniziare a parlare tutti i giorni delle pecore per la produzione della lana Merinos, o prova a parlare delle lumache di mare, del pesce lumaca, o della fermentazione della birra. Attirerai persone noiose, insomma. Quindi se noi invece iniziamo a essere grati, a praticare la gratitudine, cioè quando siamo grati per ciò che abbiamo e ci concentriamo sulle cose positive che esistono nella nostra vita, inviamo vibrazioni positive all'universo. E questo ci fa attirare più cose positive nella nostra esperienza, perché la legge dell'attrazione risponde alle vibrazioni. E quindi inizia, come dire, anche se c'è una vita di merda, per dire, al 90%, tu concentrati sul 10% di positivo, che salutiamo anche Tug, che ci sarà nella tua vita. Perché, come dire, anche una vita di merda al 90% ci avrà 10% di cose positive. Inizia a concentrarti su questo 10% di cose positive. Inizia a essere grata, a essere grato su questo 10% di cose positive. Io ad esempio mi concentro sui 9 like che ci sono. E concentrandomi sui 9 like che ci sono a questo video, sono convinto che i like aumenteranno. Perché se noi ci concentriamo su una cosa, la facciamo crescere. Noi mi concentro sui 12 like e vediamo se crescono. E quindi su ciò su cui noi ci concentriamo, lo facciamo crescere, lo facciamo aumentare, lo facciamo, li generiamo, come dire, crescita, no? Li generiamo crescita. Quindi io sono grato, ad esempio, sono già 13 like, ma magari diventeranno 14, chissà, forse 15, continueranno ad aumentare. E questo fa un po' parte, diciamo, della cosa. Quindi inviamo vibrazioni positive all'universo concentrandoci sulle cose positive che abbiamo. Poi abbiamo l'intreccio quantistico, no? Nella manifestazione. Cioè nella fisica quantistica l'osservazione e l'attenzione di un osservatore influenzano la realtà. A livello subatomico, ma a livello subatomico o non subatomico influenzano comunque la realtà. Questo ci suggerisce che le nostre aspettative, se manifestate con distacco dal risultato, quindi il nostro desiderio è con distacco dal risultato, ma soprattutto la nostra attenzione, la focalizzazione può plasmare il mondo intorno a noi. E questo è l'esperimento della doppia fenditura, no? Il tipico, classico esperimento della doppia fenditura. Cioè nella doppia fenditura i fotoni o gli elettroni, diciamo, vengono separati da due fenditure su uno schermo di rilevamento, no? E sorprendetemente se osserviamo il comportamento dei fotoni, ad esempio, essi si comportano da particelle, creando due strisce luminose sullo schermo. Ma lo stesso discorso andrebbe e varrebbe anche per gli elettroni. Tuttavia se eliminiamo l'osservazione e si lasciano i fotoni o gli elettroni interagire con l'ambiente senza essere osservati, si comportano da onde, creando quindi modelli di interferenza, perché l'onda crea interferenza, la particella no. L'interferenza, ad esempio, sono i fenomeni di chiaroscuro della luce, ad esempio, no? E questa è una cosa importante, no? Questo è un punto importante. L'intreccio quantistico potrebbe essere un bel quadro, secondo me. Se non esiste lo spazio, non esiste neanche la noia, una bella chiacchierata sulle pecore fa pure bene. Sì, beh, anche una chiacchierata sulle pecore ogni tanto fa bene, perché dipende come si parla delle pecore. Perché la cosa interessante è che possiamo parlare delle pecore anche nel modo migliore, oppure possiamo parlare dei massimi sistemi nel modo peggiore, perché siamo noi che creiamo la nostra realtà fondamentalmente. Ecco, questi sono alcuni concetti fondamentali, no? Questo esperimento della doppia fenditura ci dimostra come l'atto di osservazione influenzi il comportamento della particella, delle particelle subatomiche, dei fotoni o degli elettroni in questo caso. Ma quali sono quindi le tecniche pratiche da applicare, diciamo, alla fisica quantistica, cioè per applicare la fisica quantistica alla legge della trazione? Beh, ci sono diverse tecniche che possiamo utilizzare per applicare quindi proprio i principi della quantistica, della legge della trazione, per attrarre ciò che desideriamo nella nostra vita. Io credo che una delle tecniche pratiche, diciamo, fondamentali, doppia fenditura la devo comprendere, ma non è che c'è tanto da comprendere. Sono esperimenti che sono stati fatti già da tempo, no? Bisogna conoscere un minimo, diciamo, di differenza tra che cos'è un'onda e che cos'è una particella per comprendere la doppia fenditura. Un'onda, beh, uno può immaginare anche un'onda del mare, no? Un'onda del mare se entra dentro delle fenditure e creerà delle interferenze, no? In questo caso non è un'onda del mare, ma è un campo, un campo, un campo, in questo caso di fotoni, che cos'è un campo? È una variazione, un'ondulazione, mentre una particella è una particella singola. Se io misuro con, diciamo, vado a creare un'interferenza quindi nei fotoni o negli elettroni, questi diventano una particella singola, entrano come se fossero una biglia che entra dentro la fenditura, non va a creare interferenza, mentre invece se non osservo entrano come fossero un'onda, come fossero un campo, quindi un campo è questo. Diciamo che il campo elettromagnetico dei fotoni è stato studiato già da tempo, no? Cioè non è un qualcosa, una scoperta neanche della quantistica. La teoria dei campi, la teoria dei campi magnetici o dei campi in generale è governata da equazioni di Laplace, ad esempio, no? Le trasformate di Laplace servono poi per studiare i campi elettromagnetici, che non mi ricordo più quelle equazioni come nabla quadro fi uguale, non mi ricordo esattamente, comunque sono la derivata seconda, sono equazioni differenziali di Laplace fondamentalmente. Comunque, allora, tornando al discorso precedente, qual è uno degli esempi che noi possiamo utilizzare per, come dire, una delle tecniche pratiche? Io credo che sia la visualizzazione. La visualizzazione creativa è fondamentale, quindi noi abbiamo un grande potere, no? Immaginare, in me, mago agire, dentro di me agisce la magia. Si tratta quindi di immaginare vivamente, in modo vivo, ciò che si desidera ottenere nella nostra vita. Quindi immaginare vivamente, visivamente, in modo vivido ciò che vogliamo ottenere, coinvolgendo tutti i sensi, ma coinvolgendo soprattutto anche le emozioni. Se riusciamo a farlo, coinvolgendo, diciamo, le emozioni, la visualizzazione, tutti i sensi, ad esempio, se desideri un lavoro nuovo, ci si può immaginare, mentre svolgiamo le nuove attività lavorative, desiderate, percependo la gratitudine, percependo l'eccitazione, l'emozione per il successo ottenuto, visualizzando dei dettagli anche. Questo ci aiuta a inviare chiare intenzioni all'universo e a creare una risonanza energetica per attirare proprio questo tipo di lavoro. Questa è una delle strategie fondamentali, ma anche ascoltare storie di persone che hanno applicato con successo i principi della quantistica, della legge dell'attrazione, può ispirarci a motivarci a fare lo stesso, a motivare gli altri. Il concetto del mentore, avere un mentore, cioè un riferimento, questo ci porta, diciamo, dei risultati molto, molto importanti. Quindi, questo è un punto fondamentale, no? Cioè, quindi, avere un mentore, un mentore ci porta veramente dei risultati importanti. D'altra parte, questo è anche uno dei principi della PNL, no? Noi possiamo imparare osservando persone che già sanno fare questa cosa. E questo è il perché, diciamo, grazie Betty, magari, magari, questo è il perché molti, molti maestri, ad esempio, no? Molti maestri buddisti, o anche insegnano proprio attraverso proprio una loro presenza, no? Come se trasferissero emozioni a livello energetico. Io non credo che il Buddha insegnasse, sì, parlava, ma sicuramente era la sua energia che si trasferiva. Questo è un altro, è un altro concetto, è un altro concetto molto, molto importante. Ovviamente è molto importante anche il pensiero, il pensiero positivo, no? Quando pensi positivo emetti vibrazioni positive che attirano cose positive nella tua vita. Se pensi di essere in grado di raggiungere un obiettivo, aumenterai le probabilità di successo, no? Inizia a sviluppare dei pensieri anche positivi, tipo sono in grado di raggiungere i miei obiettivi, sono una persona felice e fortunata, il mondo è un posto meraviglioso. E poi sentirsi grati, no? La gratitudine anche qua è un concetto, è un concetto fondamentale, è veramente un altro, è veramente un concetto molto importante, un concetto fondamentale. Quindi dobbiamo iniziare a sentirci grati, la gratitudine è una potente emozione che attira ancora più abbondanza nella nostra vita. Sentirci grati significa, diciamo, trovare nella nostra vita delle cose per le quali essere grati, vale a cercare. Potrebbe essere la tua salute, la tua famiglia, i tuoi amici, il tuo lavoro, il fatto che hai un tetto sulla testa, anche il fatto che hai cibo tutti i giorni, no? Perché anche il fatto che sei vivo, il fatto che non sei infermi in un letto, no? Ci sono tantissime cose che noi non valutiamo neanche, ma pensate quante persone, diciamo, quanto noi abbiamo di essere grati e magari ci sono persone che non lo sono. Pensate, ad esempio, vediamo. Beh, pensate la vista. La vista sembra, come possiamo dire, il fatto che noi possiamo vedere un qualcosa da nulla, ma valla a dire a un cieco che la vista è un qualcosa da nulla. Ma per fare un esempio, valla a dire a un cieco. Io oggi ho visto combinazione, mi è capitato un video da qualche parte dove vedevo una corsa di persone cieche che avevano un accompagnatore, uno che correva al loro fianco, diciamo, era una corsa femminile di donne cieche, con l'accompagnatore. Ecco, pensate per dire queste persone come vivono la vita, no? Quindi che cosa darebbero per avere la vista? E noi non ci facciamo neanche caso. Eppure il fatto di poter vedere è, dovremmo essere grati di questo, non tutte le persone riescono a vedere. Il fatto che possiamo camminare e non siamo paralizzati su una sedia a rotelle, per dire. Ma le persone che sono paralizzate avranno comunque altre cose. Quindi ognuno di noi, diciamo, ha comunque molte cose di cui essere grato che non se ne rende neanche conto. Che non se ne rende neanche conto. Perché ad esempio la salute te ne rendi conto soltanto nel momento della malattia, no? Ad esempio. Comunque il fatto che ad esempio non viviamo nella guerra, per dire, no? Sembra strano, ma la guerra non è che in questo aumento è su Marte. E diciamo è a, che ne so, 500 chilometri da noi, 600, 700, non so, dipende da dove abita uno, no? Però voglio dire, non è che è su un altro pianeta che diceva, vabbè, oppure è di 250 anni fa. Cioè, ma pensate ad esempio le persone che, come dire, rischiano di riceversi bombe sulla casa, sulla testa, o che hanno ricevuto bombe sulla casa, sulla testa. E quindi questa è un'altra cosa per dire. Oppure il fatto che noi possiamo, bene o male, accedere al cibo. Perché diciamoci la verità. Anche quelli più poveri, bene male che vada, un pasto alla Caritas ce l'hanno. Cioè, pensate a tutte le persone che vivono sul pianeta che non hanno accesso al cibo, che non hanno accesso all'acqua. Quindi smettetela di dire che non avete cose di cui essere grati. Perché ognuno di noi ha molte più cose di quelle di essere grato di quelle che puoi immaginare. È ovvio che se dai tutto per scontato, dai e tutto per, come dire, per... tutto ti è dovuto e va bene. Allora potresti essere grato per niente. Allora vivi di ingratitudine, no? Questo è ovvio, no? Che io quando dico vorrei la casa a Monte Carlo, la villa a Monte Carlo, dico ma, cioè, mi rendo conto che sarebbe una roba... cioè, che non è che quella mi fa vivere, come dire, devo essere grato per quello che ho. Ma il che non significa non aspirare ad avere meglio o non aspirare ad avere di più. Però per aspirare ad avere qualcosa di più dobbiamo essere grati già per quello che abbiamo, no? Perché l'ingratitudine ci fa vibrare negativamente. I nostri pensieri ci portano, i nostri pensieri ci possono portare delle cose estremamente negative, no? Quindi, ma anche Stella Marina ha da essere grata a tutti. Lei ha il suo posto in tangenziale o in autostrada che non gli tocca a nessuno. Non è da tutti avere il posto fisso in tangenziale o in autostrada e ovviamente sto scherzando, eh, Stella Marina, non sai che sto scherzando. Comunque, questo è un'altra... grazie comunque, Stella, grazie, grazie. Comunque, questa è un'altra cosa importante. Poi, non basta però pensare positivo e essere grati. Bisogna anche agire. Bisogna anche agire. È importante anche agire. Questo è un punto fondamentale. Dobbiamo anche passare all'azione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non basta essere grati, non basta pensare positivo, è importante agire per realizzare i tuoi obiettivi. Quando agisci, stai inviando un messaggio all'universo che ti sta impegnando per raggiungere i tuoi obiettivi. Come facciamo ad agire? Beh, intanto definisci quelli che sono i tuoi obiettivi. Io do sempre... io do sempre il suggerimento, diciamo, di definire gli obiettivi in modo smart, specifico, misurabile, accessibile, realistico e temporalmente collocato. Quindi io do sempre questa, diciamo, definizione smart per raggiungere gli obiettivi. Però è importante, diciamo, definirla. Crea un piano anche per raggiungere i tuoi obiettivi. Agisci per raggiungere i tuoi obiettivi e persevera. Non ti devi arrendere. Se segui questi consigli, attirerai abbondanza nella tua vita. Non dimenticare che la realtà è un'energia vibrazionale, che tutto è collegato. Quindi se pensi positivo, senti gratitudine e agisci per realizzare i tuoi obiettivi, attirerai cose positive e attirerai abbondanza nella tua vita. Bene, questo è quello che voglio...